Tutto pronto per il segnale di partenza. Solo partite. Buono il break da parte di Dasola che va a prendersi la leadership della gara dopo i primi 200 metri nei confronti di Juli Forever. A largo galoppa Robustella in quarta posizione si è sistemato Grand Champion nei confronti di Tacma. Nelle posizioni di retroguardia galoppano Iannakis preceduto da Ballo sul mondo all'estrema retroguardia Cash Game. Dasola in buon vantaggio ed affronta la dirittura di opposta in maniera del tutto libera di poter gestire la propria cadenza nei confronti di Juli Forever. A largo si mantiene Robustella nei confronti di Grand Champion quindi Tacma, Iannakis, Ballo sul mondo e Cash Game. Non si risparmia in avanti Dasola e continua a condurre di buona lena nei confronti di Juli Forever che attende gli eventi quindi Grand Champion che prova a tagliare fuori Robustella quindi Tacma e Iannakis. Grand Champion muove a largo in compagnia di Juli Forever a inseguimento di Dasola che affronta la dirittura di arrivo in vantaggio. Dasola è leader a 300 metri dal traguardo inseguita all'interno da Grand Champion che ha sfilato Juli Forever quindi ancora Robustella. C'è lo scatto di Grand Champion che sta passando in vantaggio a 150 metri dal traguardo nei confronti di Dasola e Robustella. Grand Champion nel finale viene a rifinire il tutto in maniera molto netta, vince Comodo, Grand Champion avanti a Dasola e Robustella. 3-4-8 è l'arrivo di questa quarta corsa al Casalone, la vittoria di Grand Champion, Mariolino Sanna 2-45 al totalizzatore. Una bella affermazione per l'allieva di Fabrizio Ligas che conferma le buone impressioni avute proprio all'ultima uscita. Vediamo se abbiamo la possibilità anche sul maxischermo di poter riapprezzare proprio le fasi finali di questa gara. Con Grand Champion che taglia fuori Juli Forever, indirittura di arrivo la sfila all'interno. Poi si propone in maniera decisa l'attacco della battistrada a Dasola che aveva gestito per buona parte della gara. Gli ultimi 200 metri sono un buon canter da parte di Grand Champion che si impone meritatamente in questa prova, Mariolino Sanna in sella. 3-3 per quanto riguarda il primo arrivato, al secondo posto il numero 4, Dasola, al terzo il numero 8, Robustella. Il vincitore pagherà 2-45 al totalizzatore. E con le immagini in primo piano di Grand Champion restituiamo la linea allo studio.